Passiamo ora alla mozione 197, stop autostrada Pedemontana, primo firmatario il consigliere Corbetta che ha facoltà di illustrare il contenuto. Grazie Presidente. Su Pedemontana si potrebbero dire tantissime cose, a partire dal fatto che l'autostrada passa nell'area di Seveso contaminata dalla diossina dell'incidente ICMES del 1976. La diossina è ancora in buona parte nei terreni, vista la bonifica solo parziale dell'area fatta a suo tempo e non è esattamente una buona idea andare a movimentare terra proprio in quell'area, con conseguente rimessa in circolo di questa terribile sostanza. Tanto è vero che la Regione Lombardia per legge aveva vietato qualsiasi lavorazione in quell'area ma per fare passare l'autostrada ha abrogato il divieto. Senza dimenticare poi che le prescrizioni del Cipe, che prevedono una serie di controlli approfonditi sul livello di contaminazione dei terreni, sono ancora oggi lettera morta o nel migliore dei casi hanno ottenuto risposte insufficienti. Si potrebbe proseguire parlando dei profili di illegittimità legati al progetto definitivo della tratta B2, quella che va dall'intatta Cesano-Maderno, a partire dal mancato interramento della tratta. La tratta era stata prevista originariamente in superficie ma Regione Lombardia aveva bocciato questa soluzione e imposto l'interramento per evidenti motivi di impatto ambientale. Salvo poi rimangiarsi la parola in fase di approvazione del progetto definitivo e tornare alla vecchia soluzione che lei stessa aveva in precedenza bocciato per risparmiare soldi. E queste modifiche non sono state assunte con il recepimento delle prescrizioni impartite dal Cipe nel progetto preliminare. C'è poi il tema della mancata redazione della VAS, come se l'opera non determinasse nuovi significativi impatti ambientali. Tutte queste considerazioni hanno generato un ricorso al TAR da parte dei comitati dei cittadini che potrebbe auspicabilmente risultare devastante per il proseguo dell'opera. Si potrebbe anche parlare del consumo di suolo che tale opera comporterà per l'Abrianza, la provincia più cementificata d'Italia. Ma le ragioni ancora più stringenti per dire stop oggi a Pedemontana sono due. Il primo, banalmente, non ci sono i soldi. L'opera versa in enormi difficoltà finanziarie. I lavori sono finanziati solo per la tratta A, in via di ultimazione, e la B1, dall'Omazzo Lentate. Queste tratte hanno sorbito tutte le risorse pubbliche originariamente previsti per l'intera opera, dato che i privati si sono ben guardati dall'investire in Pedemontana. Le tratte B2, C e D sono prive di finanziamento. Nel tempo i vari prodi di Pietro, Berlusconi, Formigoni, hanno generosamente gettato il cuore oltre l'ostacolo, o meglio, hanno gettato l'asfalto oltre l'ostacolo, senza preoccuparsi delle coperture finanziarie, confidando che sarebbero arrivate una volta iniziata l'opera. Ma non hanno fatto i conti con la crisi. Oggi la domanda di mobilità non è più quella prevista un tempo, tanto che gli istituti di credito non credono più nel rientro dei capitali investiti nei 25 anni di concessione. Parliamo di pedaggi. Questa non era l'aggiunta e la maggioranza che vuole abbassare il costo dei pedaggi ai Lombardi. Il pedaggio di Pedemontana costerà il triplo rispetto a quello di Autostrade per l'Italia. Addirittura i cittadini Lombardi, che oggi percorrono gratuitamente per andare al lavoro la superstrada Milano-Meda, per effetto della trasformazione della stessa in tratto B2 della Pedemontana, dovranno pagare un pedaggio salatissimo per stare in conto ai bottigliati peggio di adesso. L'opera doveva venire pronta per Expo, ma ormai questo cronoprogramma è stato abbandonato. Ora si punta ad aprire la tratta B1 per collegare alla superstrada Milano-Meda entro il 2015. Per i lavori delle altre tratte se ne riparla dopo Expo, a babbo morto come si suol dire. Il Presidente Maroni e l'assessore del Tenno, un giorno sì e l'altro pure, ripetono che i soldi si troveranno e che l'autostrada sarà terminata dopo l'Expo, ma ad oggi il fatto che i soldi non ci sono. L'ipotesi più realistica è quella che la Pedemontana finisca lentate, sversando tutto il traffico proveniente da Como, Varese e Saronno, sulla superstrada Milano-Meda, già oggi di per sé al collasso. Alentate, Seveso, Cesano-Maderno, Boviso-Masciago sarà il caos e per questo i sindaci della tratta B2 sono terrorizzati. La seconda ragione, forte per dire stop alla Pedemontana, è che quest'opera è nata vecchia, se ne parla dagli anni 50, è stata concepita in un mondo che nel frattempo è completamente cambiato. Il territorio si è deindustrializzato, il suolo è stato fortemente urbanizzato, l'inquinamento atmosferico è diventato un problema serio, che causa ogni anno migliaia di morti. Che senso ha Pedemontana oggi? Davvero c'è bisogno di un collegamento a est-ovest, da Varese a Bergamo di questo genere? Anche alla luce del potenziamento dell'A4 e della creazione della Brebemi, che senso ha una terza autostrada che nel tratto finale viaggia in parallelo a pochi chilometri di distanza? Oggi i TIR nel nord Italia viaggiano con un coefficiente di carico intorno al 50%. Non sarebbe meglio puntare a risolvere le inefficienze del nostro sistema logistico e dei trasporti, invece di buttare 5 miliardi di euro in un'opera così devastante? Non sarebbe meglio abodernare e mettere in efficienza la rete viabilistica esistente? Non sarebbe meglio puntare sul ferro? Sono 30 anni, per esempio, che si aspetta il prolungamento della metro a mie mercate. Durante un recente convegno sul tema è intervenuto il rappresentante degli artigiani Brianzoli, spiegando che i distretti produttivi lombardi vogliono l'autostrada. Spesso un divano, ha spiegato, viene prodotto da più aziende ed è un problema se si devono perdere tempo e soldi per il trasporto difficoltoso dei semi lavorati. Naturalmente siamo d'accordissimo, ma siamo proprio sicuri che per risolvere il problema serve un super collegamento Varese-Bergamo, con pedaggio salatissimo, tra l'altro. Occorre una strategia organica per rendere efficiente e scorrevole la rete stradale ordinaria, per collegare agevolmente le aziende di un certo distretto territoriale che distano pochi chilometri le une delle altre. Che ci azzecca un'autostrada? Insomma, da qualunque lato la si veda, questa autostrada non sta in piedi e non vale nemmeno tirare di mezzo, come spesso fa l'assessore del Teno, alla questione del lavoro. Si tratta per lo più di lavoro dequalificato e temporaneo, di fatti quando l'opera finisce, finisce anche il lavoro. È chiaro che l'unica analisi che è stata fatta è la vie, la valutazione di impatto elettorale. Questa autostrada fa comodo, elettoralmente parlando, a quei politici che l'hanno voluta la difendono senza sé e senza ma, oltre naturalmente a tutte quelle grosse imprese che si sono aggiudicate gli appalti, a volte anche in modo illegittimo. Ricordo di fatti che nel dicembre scorso il TAR della Lombardia ha emanato una sentenza narrativa alla procedura di assegnazione dell'appalto da 2,3 miliardi di euro per la realizzazione delle tratte B1, B2, C e D. La sentenza, relativa al ricorso avanzato da Consorzio Pedemontana 2 contro Strabag, condanna Autostrada Pedemontana Lombarda al pagamento di 22 milioni di euro per essersi giudicata illegittimamente ai lavori. Infine, non dimentichiamoci che viviamo in un momento storico in cui le risorse pubbliche sono limitate. Investire soldi in questa grande opera inutile significa non investirle in altre opere, in altri settori. Significa non avere i soldi per la diffusione della banda larga, significa non avere i soldi per il trasporto pubblico, i soldi per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico, i soldi per la messa in sicurezza del territorio dal rischio ideologico. Tutte queste attività porterebbero lavoro spesso qualificato e duraturo. E i politici che ci governano a fronte di tutto questo sono ancora qui nel 2014 a insistere con questa autostrada, concepita a suo tempo senza una visione strategica, in totale latitanza di una programmazione della mobilità, sulla scorta di aspettative finanziarie fasulle. Non fanno altro che dimostrare nel migliore delle ipotesi una visione del futuro miope e del tutto inadeguata ai tempi che viviamo. Questa mozione costringe tutti i gruppi politici presenti in Consiglio a esprimere la loro idea di futuro della Lombardia. Il nostro no per De Montana non ha nulla di ideologico, ma interpreta l'idea della Lombardia nella quale ci piacerebbe vivere. Meno traffico non vuol dire più autostrade, ma più trasporto pubblico e meno auto. Abbiamo bisogno di un cambiamento di paradigma culturale. Costruire le autostrade non è sinonimo di progresso e sviluppo economico. Come se ne esce, occorre fermare l'autostrada laddove è già stata realizzata, all'omazzo, in corrispondenza dello svincolo dell'A8. Non ci sembra di chiedere troppo che chi governa la Regione capisca di trovarsi in un vicolo cieco. Si si è parlato dei fondi già stanziati, delle penali, chi se le accolla? Ma io mi domando chi mette i soldi per andare avanti, per realizzare l'autostrada, perché questi soldi non ci sono. Allora qui è una questione di limitare i danni. L'abbiamo già fatto con quell'assurdo progetto che era il ponte sullo stretto e qui bisogna fare la stessa cosa secondo noi, né più né meno. Stiamo ragionando di investimenti miliardari sulle autostrade quando facciamo le figuracce con la Svizzera che ci deve dare 120 milioni di euro per ammodernare la nostra rete ferroviaria in vista dei treni merci che arriveranno dal Gottardo. Cioè la stessa operazione che noi abbiamo fatto con le ferrovie libiche cent'anni fa la stanno facendo loro con noi. Noi siamo oggi la Libia della Svizzera per quanto riguarda le ferrovie. Rendiamoci conto di questo. Qual è il senso di questa mozione qui oggi? Io ho parlato di cambio di paradigma culturale, ho parlato di esprimere un'idea di futuro per la Lombardia. Io volevo costringere le forze qui presenti a dire qual è la loro idea di futuro della Lombardia. E per questo sono soddisfatto perché ciascuno l'ha detto, ce lo siamo detti finalmente in maniera chiara in Consiglio regionale e sono d'accordo con l'assessore del Terno, ciascuno di noi si assumerà le responsabilità di fronte ai cittadini delle scelte che sono state fatte. Però io sono orgoglioso di aver portato in quest'Aula per la prima volta un no chiaro e forte a Pedemontana senza se e senza ma. Per quanto riguarda il discorso del Consigliere Anelli è vero, abbiamo presentato quella risoluzione probabilmente ho sbagliato a mettere insieme sia lo stop che tutte le altre indicazioni che sono state citate prima anche se nella formulazione della risoluzione mi ero ben guardato dal legittimare il proseguimento dell'opera perché si parlava sempre delle tratte in essere. Comunque compensazione ambientale, nuovi parchi, piano d'aria parliamo non da domani mattina, ma da stasera. Noi siamo assolutamente disponibili. Grazie.